L'Istituto di Cultura Giapponese di Roma, oltre al Magnifico Giardino, presenta una serie di interessanti mostre e rassegne culturali legate al mondo del sollevante. In questo periodo è possibile visitare gratuitamente la nuova mostra Aquiloni e Trottole dal Giappone, per scoprire le tradizioni di un paese a noi molto lontano. In questo momento all'Istituto Giapponese di Cultura ospitiamo degli eventi che potremmo mettere sotto legge da una primavera dei ragazzi, siamo molto liati infatti della partecipazione delle fasce più giovani di pubblico che viene a visitare l'Istituto. Io sono davanti al set di Hina Niggio, che sono le bambole che vengono esposte come ornamento della casa in occasione della festa delle bambine che si festeggia in Giappone tradizionalmente il 3 marzo, mentre poi saranno sostituite a seconda della stagione che invece va incontro alla festa dei bambini maschi che si festeggia tradizionalmente il 5 maggio dalle Koinobori, che sono le grandi carpe volanti in foggia di Aquilone. Un altro capitolo della festa dei ragazzi qui presso l'Istituto Giapponese di Cultura, che però è molto affascinante anche per gli adulti, è la mostra Aquiloni e Trottole dal Giappone, che presenta questi due giocattoli che sono comunque ormai parte integrante del folk giapponese, nonostante lo sfondo ipertecnologico imperante, anche nel campo dei giocattoli per ragazzi del Giappone. Sono molto tipici del Capodanno e quindi vengono anche questi utilizzati, soprattutto gli Aquiloni, per lanciare messaggi di ogni tipo, soprattutto quelli benauguranti o qualche volta apotropaici, comunque legati a piccole superstizioni locali, sempre intese ad augurare l'anno migliore per tutti in varie zone del Giappone. E così avviene per le Trottole, che sono sempre via via meno utilizzate, ma che una volta avevano una valenza culturale molto molto importante. Un'altra iniziativa che è presente adesso all'Istituto Giapponese di Cultura è la mostra degli Okigari Koboshi, piccoli monaci sempre in piedi. Sono un giocattolo tipico delle zone del Tohoku colpite dallo tsunami quattro anni fa. Una cerimonia di commemorazione delle vittime dello tsunami del Tohoku è stata celebrata in piazza del Campidoglio l'11 marzo di quest'anno, alla presenza dello stilista Kenzo, ideatore di questa iniziativa dei piccoli monaci sempre in piedi, del Sindaco di Roma e di altre autorità e personalità giapponesi e italiane. L'idea di Kenzo è stata di proporre a vari VIP testimonial di disegnare e decorare queste bamboline tipiche della zona colpite dallo tsunami che hanno la prerogativa di tornare sempre in piedi se scosse o mosse, proprio per un particolare baricentro. Naturalmente tutto questo è simbolo dell'augurio e del messaggio di ripresa per le popolazioni colpite. Tra i VIP testimonial che hanno decorato le bamboline per gli italiani ci sono il Sindaco Marino stesso, gli chef Heinz Beck e Gianfranco Vissani, i registi Tornatore Sorrentino, lo showman Fiorello, Carla Fracci ed altri. Kenzo ha inoltre chiamato a raccolta personaggi emblematici della cultura giapponese come lottatori di sumo o suonatori di shamisen o altri stilisti di fama mondiale. Grazie. 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 Grazie.